e stare cara al suo autore. E sono milioni ogni anno gli animali che vengono allevati nelle gabbie, una battaglia questa che sta combattendo Michela Vittoria Brambilla che ora arriva anche sul tavolo di Bruxelles. Conigli, galline, maiali che purtroppo vivono questa vita, non vita, nelle gabbie, un orrore al quale dobbiamo mettere la parola fine. Ogni anno in Italia sono quasi 60 milioni gli animali che vengono allevati nelle gabbie, costretti a passare tutta la loro vita a confinati spazi molto stretti, spesso ammassati senza potersi muovere o correre. Dalla nascita alla morte restano così prigionieri come cavie. Naturalmente noi promuoviamo uno stile di vita vega, ma siccome non tutti sono ancora arrivati a questa scelta, chiediamo che gli animali, fino a che sono in vita, vedano rispettate le loro caratteristiche etologiche e quindi vedano rispettata la loro dignità. Michela Brambilla ha incontrato in Senato i promotori dell'iniziativa End the Cage Age, che raccoglie 140 associazioni che intendono lottare per porre definitivamente fine all'uso delle gabbie in tutta Europa. End the Cage Age 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 Grazie a tutti